C'è molta disciplina senza la quale mi perderei. A volte lavoro su dei concetti che sviluppo, altre volte parto da un materiale o da una forma che poi mi suggerisce un percorso ritroso, cioè da dove sono partito. Non c'è una regola, vivo di intuizioni sicuramente, sono un po' situazionista in questo senso.